Il Ministero dell'Interno ha adottato la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato, in cui è inclusa la provincia di Pesaro e Urbino. La direttiva prevede delle limitazioni alle persone fisiche e non alle merci. Gli spostamenti fuori dalla zona potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da sottoscrivere attraverso un'autodichiarazione che potrà essere resa disponibile attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di polizia. Di vieto assoluto che non ammette eccezioni è previsto per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che sono risultate positive al virus. I controlli saranno eseguiti sul rispetto delle limitazioni della mobilità lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le autodichiarazioni. La polizia ferroviaria curerà invece con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della protezione civile su tutte le linee ferroviarie e controlli sui passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per eseguire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori con i termoscanner. Anche in stazioni come i posti di blocco lungo le strade, per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo, la polizia ferroviaria farà compilare le certificazioni anche al momento all'apposito desk di controllo. La verifica dell'autorizzazione potrà essere effettuata da parte del personale addetto anche con successivi controlli. Previste sanzioni per i trasgressori che non rispettano le limitazioni agli espostamenti. Il decreto stabilisce che chi viola la prescrizione è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità. Ma pene più gravi possono essere prescritte per chi adotterà comportamenti come ad esempio la fuga della quarantena per i positivi che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica. Grazie a tutti.